Nonno, come mai è qui a quest'ora? È due ore che ti chiamo quel telefonino. Perché non rispondi mai? Sto chiudendo un affare, mi serve la linea libera. Ha chiamato tuo fratello da Roma. Papa? 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 Quando cremano uno, nelle ceneri ci rimane pure il legno della bara. Sono arrivati quelli delle pompe funebri. Ci stanno delle cose da firmare, per il carro e per la cremazione. E' da casa. Ma firma tua è uguale. E no, non è uguale. Non è più uguale, Mirko. Non è che io posso continuare a dire a tutti e lasciatelo perde, Mirko è fatto così. Non avevamo manco i soldi per pagare il funerale di tuo padre. Vabbè, sta cosa del funerale non è una cosa che riguarda solo me. L'ha chiamato. L'ha chiamato? Tanto non viene. Ho capito, ma l'ha chiamato? Non so nemmeno se lo riconosco. Non so nemmeno che... Ma che un morto? Cosa che dice? Se vuoi dire? Con noi, sì, vivissime. Ma che un morto? Non è un giusto carino. Sì, è vero. Sì, è vero, signor. Sì, è vero, signor. Sì, è vero che un morto. Sì, è vero che la conoscenza per i mercati in un momento, Sì, è vero. Ma sto chiedendo perché ho un conflitto. Potremmo prestare il signo a 7.30 p.m.? Bene. Allora, ci vediamo dopo. Buongiorno. Era così il problema di lì. Il tuo contrattempo. Era il funerale di tuo padre. Pensi di soffrire di meno così? Sì. Taxi!